buonasera signore lei farà tremari? yes yes dove deve andare? dobbiamo andare in sicilia no lei dove deve andare? nel furgone lei meccanico? si l'angelo custode dei dei tremaristi benissimo quante ne ha fatti già tremari lei? sono dal 2007 stiamo a dieci tolgo qualcuno mi sembra uno due otto ed è felice che deve fare una tremari certo l'appuntamento quando è? il 31 mario il 31 si parte il 30 c'è il briefing non diamo informazioni sbagliate vero allora appuntamento a sette mari il 30 maggio arrivederci